Buonasera, benvenuta nel Borgo di Pereto. Innanzitutto la ringraziamo a nome di tutta l'associazione per essere qui oggi con noi. Lei e la sua opera è stata classificata come prima opera nella sezione Silloge, quindi innanzitutto le nostre congratulazioni. Come ci si sente a essere arrivata fin qui? Allora, questo è un premio bellissimo, non soltanto perché rende onore alla poesia, ma soprattutto perché è un premio fatto di persone. È un premio fatto da tutto il Borgo, un Borgo che ha un'anima e veramente molto in linea con quello che poi ha anche la poesia stessa, l'emozione della poesia. Come ha scoperto lei il premio Ombres e per quale ragione ha deciso di partecipare? Allora, il premio Ombres in realtà risulta un po' nella mia sfera di interessi, anche a me sta a cuore il destino dei piccoli borghi, in modo particolare i borghi dell'Appennino. E poi, come dicevo, le suggestioni anche dei luoghi. Io sono del Lazio, sono Ciociara, però l'abruzzo nel cuore, quindi venire qui in questi luoghi verdi, incontaminati, è sempre un bel venire. È la prima volta che lei partecipa al premio o ha già partecipato? È la mia prima volta e forse anche la fortuna del principiante, non lo so. Questa è anche la mia prima silloge edita dall'Associazione Ombres. Allora, ancora complimenti. Un'ultima cosa, come diceva anche lei, appunto il premio Ombres è organizzato di solito in un borgo. Quest'anno ci troviamo a Pereto ed è un'edizione particolarmente importante e commemorativa. Come le è sembrato il borgo di Pereto? Ecco, la cosa è al di là dei luoghi, che pure sono bellissimi, insomma anche, come dire, la stessa struttura del borgo arroccato su questa collina, ma quello che ha Pereto è l'anima, che è la cosa più bella. Lo vedo nell'accoglienza delle persone, nella gentilezza, nella disponibilità, che veramente i luoghi sono fatti di persone. La ringraziamo tantissimo e ci auguriamo che possiamo vederla nelle successive edizioni del premio. Lo spero, io tornerò, magari anche non per forza in veste di vincitrice, ma sicuramente tornerò per stare con voi. E saremo ledi di accoglierla.